In una famiglia, quando un uomo e una donna sono diventati una sola carne, tutte le ferite e tutti gli abbandoni del papà e della mamma incidono nella carne viva dei figli. Lo ha ricordato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale di questa mattina, inserita nel ciclo di riflessioni sulla famiglia e dedicata alle ferite che si aprono all'interno della convivenza familiare quando ci si fa del male con il tradimento o la violenza. Ci sono parole, azioni e omissioni che mortificano l'amore coniugale, ha sottolineato il Papa, e possono creare lacerazioni profonde che dividono marito e moglie e inducono a cercare altrove comprensione, sostegno e consolazione. Si crea una disgregazione dell'amore coniugale che spesso frana addosso ai figli. Il Pontefice si è chiesto se non siamo anestetizzati anche rispetto alle ferite dell'anima dei bambini. Sentiamo il peso della montagna che scaccia l'anima di un bambino nelle famiglie in cui ci si tratta male e ci si fa del male fino a spezzare il legame della fedeltà coniugale. quale peso ha nelle nostre scelte? Scelte sbagliate, per esempio, quanto peso ha l'anima dei bambini? Quando gli adulti perdono la testa, quando ognuno pensa a se stesso solamente, quando papà e mamma si fanno del male, l'anima dei bambini soffre molto, prova un senso di desperazione e sono ferite che lasciano il segno per tutta la vita. Ci sono casi, è riconosciuto Papa Francesco, in cui la separazione è inevitabile e può diventare persino necessaria per sottrarre il coniuge più debole alla prepotenza e alla violenza. E non tutti i separati riescono a testimoniare fedeltà ad un legame che non può rivivere. Così troviamo diverse famiglie in situazioni cosiddette irregolari. Come aiutarle, come accompagnarle, si è chiesto il Papa. È necessaria una fede grande per guardare la realtà con uno sguardo di Dio e una grande carità per accostare le persone con il suo cuore misericordioso.